Napoleone Cera, lei che percezione ha di quanto si sta dicendo in ambito centrodestra da Sansevero che in molti, soprattutto di Forza Italia, non vogliono votare centrodestra perché c'è Angelo Cera come candidato? Non lo considerano un uomo del territorio? In realtà se dovessimo considerare gli uomini del territorio sono davvero pochi. L'unico probabilmente vicino a Sansevero è Angelo Cera perché poi tra le altre cose è molto vicino geograficamente a Sansevero anche come residenza. Io non credo che Forza Italia o altre forze di centrodestra possano votare altrove. Oggi c'è davvero bisogno di un voto utile. Il voto utile è il voto dato al centrodestra. Dare oggi un voto al centrosinistra significa sprecare un voto per quelle forze che parlano alla pancia delle persone, che fanno una politica demagogica, populista. Noi invece parliamo di programmi e di prospettive per il nostro territorio. Emiliano, domenica a Foggia è apparso dispiaciuto perché voleva l'Udc nel centrosinistra, ma purtroppo a Roma il PD nazionale ha preferito Casini a Cesa. Sono davvero poche le occasioni che l'Udc nazionale ha avuto nei confronti anche di Renzi e della sinistra. Inizialmente siamo stati molto vicini al governo Letta, dopodiché le nostre state si sono interrotte e hanno preso altre vie. In Regione, Emiliano dovrebbe pensare di più al programma, a quello che ha fatto in due anni, a quello che vorrà fare per i prossimi due anni e mezzo. Non pensare alla politica nazionale perché probabilmente troppo tardi si è accorto che fare la politica nazionale significa soprattutto mettersi su un fuoco che poi non ne vale la pena. Pronti a staccare la spina in Regione? No, noi non siamo pronti a staccare la spina. L'Udc fa un discorso di prospettive. Se Michele Emiliano ci convincerà che nei prossimi due anni e mezzo metterà in campo tutte le forze, tutti gli uomini possibili per dar vita a un programma, anche ex nuovo, di rilancio per la Puglia, l'Udc ci sarà. Se non sarà convincente noi staccheremo una spina.